Stiamo distribuendo retropettorali ai podisti perché così potranno correre con un retropettorale dove c'è tutta la nostra manifestazione di dissenso contro questo lungomuro di illegalità e cemento. Vogliamo che venga buttato giù, vogliamo vedere il mare. Grazie. Grazie. 1, 2, 3, 3, 1. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.